Con questa delinquera il Sossiglio Comunale acquisisce a titolo gratuito un'area che già ha tempo con il tempo e fa divindarsi di me stradale in via continua da mezzo. Tutta la questione nasce nel 68 quando il depumito signor Cosso Lorenzo chiede una concessione per costruirsi l'abitazione e gli ha chiesto tra i vari decenni di cedere al comune una porzione di terreno che si è giocato per attivirla al senso di un'area di via Cortina. Il signor Cosso Lorenzo si impegnava a cedere al comune senza costruittivo tale area con susseguirsi gli altri, ma in realtà non molto veloci, si giunge oggi a perfezionare Gialto e quindi i direi del signor Cosso Lorenzo ci hanno riconfermato questa volontà del Presidente di usire da parte del Consiglio Comunale l'area e quindi questa sera noi acquisiamo un'area di già strazionata di circa 330 per i quadrati che già dipinta a sedile stradale, ovviamente le spese in elenchi dell'altro sono a carico nostro e in questo modo perché se non la sappia che già c'è da circa 40 anni.